Sì Questo cosa è verde Verde militare Tutto il contrasto Rispetto a me Abbiamo un buon colore Ciao Grazie di essere qui con me oggi Qui oggi ho Ferdinando in arte e freschetti Vi lascio tutti sui link giù in descrizione E oggi andremo a fare una seduta di armocromia E volevamo farla un po' in smr Quindi useremo un tono di voce appunto così Spero davvero vi piaccia E fatemelo sapere nei commenti E fatemi sapere nei commenti anche Secondo voi che stagione sono Cosa verrà fuori eccetera eccetera Allora la prima cosa che andremo a fare Sarà neutralizzare Tutto il complesso cromatico Quindi sia come vestita Che anche il cuore dei capelli Anche perché appunto vediamo come ci sono un po' di schiaritura Dovote appunto al colore Che bella voce che hai ce lo giuro Sì Sì All'inizio sembriamo un po' una contadinella È una cosa normalissima E voilà Eccoci qua Bellissimo Innanzitutto Che cos'è l'armocromia Che cos'è l'analisi del colore È una disciplina più o meno scoperta negli anni 30-40 del Novecento Grazie al cinema Infatti con la nascita del Technicolor Quindi il Cinema Colori Avevano visto come effettivamente c'erano delle sommature Che valorizzavano di più l'incarnato delle persone Il nostro complesso cromatico ha queste tre caratteristiche Temperatura Quindi sottotono Valore cromatico Quindi la luminosità di un colore E la saturazione Cioè l'intensità di un colore Quindi la prima cosa per capire se sia una stagione calda o fredda Quindi le stagioni calde sono la primavera e l'autunno Perché durante queste stagioni i colori che vediamo saranno prevalentemente caldi Invece l'estate e l'inverno sono le due stagioni fredde L'estate e l'inverno quindi saranno le due stagioni più fredde La primavera e l'autunno quelle più calde Quindi per prima cosa capiamo la temperatura di Chiara Abbiamo visto un colore caldo e un colore freddo Ok, cosa succede? Un colore caldo su Chiara va un po' ad ingiallire quasi la pelle Quindi otticamente parlando la pelle risulta un pochino più aranciato Ok Rispetto invece a un colore un pochino più freddo Un'altra cosa che notiamo sono le ombre del viso Notiamo come l'ombra del viso in questo caso risulta un pochino più pesante Quindi l'occhio risulta un pochino più appesantito Magari l'ombra appunto dell'occhiaia O le rughe d'espressione come ad esempio quella lapiale Potrebbe risultare un pochino più appesantita Come anche il contorno del viso Come quasi si va a dilatare Invece un colore più freddo Va a definire meglio la mandibola E ovviamente dare una luce un pochino più funzionale Andiamo avanti Quindi abbiamo già scoperto che è meglio freddo di caldo Esatto Ok Andiamo a vederlo con altre colorazioni Quindi sempre caldo e freddo Il corallo è sempre stato il colore che più mi sta peggio Qui abbiamo la colorazione che è un po' pescata Quindi proprio nella fascia dei rosa un pochino più pescati Quindi come se ci fosse dell'arancione dentro Invece nel momento in cui andiamo a pigmentare più verso un violaceo Quindi esempio un bubblegum Vediamo sempre come la pelle risulta un pochino più fresca Da un modo di vista visivo E notiamo anche i rossori naturali della pelle Come magari il colore delle labbra Come qui non matcha particolarmente bene Rispetto invece se dovessimo andare Con una colorazione più fredda Se andiamo sempre avanti con altre decolorazioni Pure il senape mi sta più male Senape Questo è un pochino più caldo del senape Ok Però comunque siamo sempre sulla famiglia dei gialli molto caldi Infatti qui vediamo sempre lo stesso discorso E se dovessimo compararlo Bene Decisamente sì Infatti ecco perché ad esempio Chiara quando la vediamo con delle colorazioni sui capelli Sul lilla, lavanda Su queste tonalità molto bluastre e violacee Appunto riceve tanti complimenti E proprio perché funzionano appunto sul suo incarnato Perché se dovesse andare invece con colorazioni così calde Vediamo che appunto stonano un pochino da un punto di vista ovviamente cromatico Poi una cosa molto importante è che l'analisi del colore non è un obbligo Ma è uno strumento di consapevolezza Quindi se Chiara appunto un giorno decidesse di voler fare un capello caldo Ovviamente nessuno appunto le dice qualcosa È solo appunto una sua decisione estetica Abbiamo capito che la tua temperatura è più fredda E la seconda cosa prima di capire l'intensità Quindi la saturazione Andremo a capire se prediligi delle fantasie ad alto contrasto o a basso contrasto Il contrasto è l'abbinamento cromatico di due colori Che possono essere più o meno netti tendenzialmente Andiamo a vedere Che bello questo suono Sicuramente una cosa che notiamo è che A primo impatto Si magari può definire la mascella Può definire qualcosa Ma perché il contrasto è molto netto E quindi a nostra volta in maniera ottica Va a definire la figura Però attenzione Vi chiedo di soffermarvi su una cosa Notate prima Questo O il volto di Chiara Quindi anche tu Chiara cosa noti? Noti prima il tuo volto O noti prima La fantasia La fantasia Però è perché ottica Sì Sì Comunque il tipo di contrasto è alto Andiamo a vedere invece un contrasto un pochino più basso Andiamo quasi a diluire questo tipo di contrasto qua Riesco a percepirti meglio Quindi in questo caso Quindi con un contrasto decisamente più basso Riesco a notare sia il tuo volto che la fantasia Ok Rispetto invece A qui che in primis vedo soprattutto il contrasto Rispetto a qui Quindi abbiamo visto in questo caso che la tua temperatura è fredda E il tuo contrasto è basso Quindi ora la terza cosa che ci interessa per andare a capire qual è la tua stagione È la saturazione Quindi l'intensità di un colore E quindi andremo a vedere se predilici dei colori un pochino più saturi O un pochino più desaturati Ad esempio andiamo a modificare una foto Andiamo a modificare la saturazione Quando andiamo ad alzare la saturazione I colori saranno più brillanti, più forti Invece quando andiamo a abbassare la saturazione I colori saranno un pochino più grigiastri Un pochino più soft Quindi vediamo se appunto Mi predilici i colori più desaturati O più saturi Quindi adesso andiamo a vedere Ok Guarda se è il mio blazer proprio Andiamo a vedere Questo è un rosso molto forte Molto brillante E andiamo a compararlo con un lampone Il lampone risulterà un rosso molto più rosato Ok È bello tra l'altro Decisamente Già a primo impatto cosa notiamo? Che questo colore è troppo forte per chiara Quindi vediamo come otticamente Io percepisco sempre come il contrasto Quasi Prima il colore E poi il suo viso Invece qua Riesco a percepire tutto allo stesso momento Quindi con un rosso più lamponato Quindi quasi tendente a un rosa Comunque un pochino quasi soft Notiamo come Qui passa un pochino in secondo piano Qua invece riesco a vedere tutto perfettamente Vediamo anche come matcha con i rossori Sempre naturali del viso Fino al colore del labbro Andiamo avanti Esempio prendiamo due verdi In questo caso Un verde molto saturo E poi il prossimo sarà un verde Un pochino più grigiastro Decisamente meglio Quindi sempre parlando di comunicazione Dell'immagine Cosa succede? Succede che questo colore su chiara potrebbe risultare troppo E il contrasto come ne abbiamo parlato prima A una persona, a un interlocutore Soprattutto magari uno sconosciuto A primo impatto potrebbe risultare eccessivo E quindi potresti Potrebbe La persona Tradurre come chiara Come una persona eccessiva Come una persona Troppo troppo evidente Da questo punto di vista Invece se andiamo a desaturare Vediamo come effettivamente La tonalità risulterà Da un punto di vista visivo Un pochino più funzionale E quindi questa sensazione Di estrema brillantezza Non la vedo più Ma soprattutto vedo che Percepisco il volto di chiara Rispetto invece A una colorazione così forte Sì Questo cosa è verde Verde militare Verde militare E come Come ultimo colore Andiamo a vedere Un rosa In questo caso Prendiamo un fucsino Abbinato con Una tonalità più soft Quasi più malvata Vediamo dove funziona di più Tra l'altro i colori un pochino Sono sfalsati Leggermente Sì Ovviamente Una cosa molto importante È che In videocamera I colori saranno Un pochino sfalsati Perché giustamente La percezione diversa Ovviamente dal vivo Questo tipo di Di reazione del colore È un pochino più veritiera Sì Vediamo come Stessa cosa Un fucsia Può piacere assolutamente Come colore Come gli altri Quindi una cosa molto importante È che noi Non ci basiamo Sulla soggettività Quindi Bellissimo questo colore Però Focalizziamoci Soprattutto su Come regge il colore Quindi In maniera oggettiva Quindi non lo decido io Non lo decide chiara Lo decide quasi madre natura Ok Eccessivamente forte E rispetto invece A un rosa Molto più grigiastro Quindi Molto più soft Tra l'altro Io lo noto tantissimo Sui rossetti Cioè più Sui capi Neanche tanto Ma sui rossetti Noto tanto Quando è anche Magari I caldi Proprio Non li reggo Ma anche il rossetto Rosso freddo O il rossetto di questo colore Proprio Mi sta malissimo Perché risulta Eccessivo Eccessivo Esatto Poi magari Sui vestiti Si potrebbe fare un pochino più fatica Ma sul make up Dato che Si L'abbiamo proprio Sul volto Lì è ancora più evidente Si Un po' come l'occhiale Che se ad esempio Tu dovessi indossare un occhiale Rosso fuoco La prima cosa che vedrei E' l'occhiale E non tanto il tuo sguardo Si Quindi Adesso Una cosa importante E' capire Che dominante ha Cosa significa avere una dominante Cioè avere Una caratteristica del colore Che spicca Esempio nell'estate Abbiamo visto che è una stagione Fredda Soft E luminosa Quindi dobbiamo vedere se Chiara regge colori Soprattutto tenui Quindi soprattutto soft Soprattutto freddi O soprattutto luminosi Quindi chiari E qui appunto capiamo il sottogruppo Quindi Soft summer Cool summer O light summer Poi ci sarebbe anche la stagione assoluta Ma noi ora ci basiamo Tendenzialmente solo su quello Quindi adesso su Chiara Proveremo proprio delle colorazioni Un pochino diverse Quindi saranno tutte dell'estate Ma vedremo un attimo Dove funziona di più Dici anche il colore proprio Esatto Magari dico anche tutti i nomi dei colori Questo è un verde militare Quindi è un colore che abbiamo provato prima E' la variante leggermente più scura E appartiene a? Come sottogruppo intendi Soft summer Ok Anche questo è un soft summer Magari con la variante leggermente più scura Light summer Light summer Vediamo che è troppo chiaro per te Questo è un seladeon E vediamo un esempio già Quindi il primo impatto Come colorazioni di questo tipo Come ad esempio Il verde militare E l'armi green Vanno a far risplendere il tuo incarnato Ora voglio farvi vedere Prendendo un verde dell'inverno Quindi un verde smeraldo Sempre la stessa situazione Che abbiamo visto prima Con appunto la saturazione Sì Stessa cosa Vediamo com'è Questo verde A primo impatto Ruba un po' la scena A chiara E rispetto invece A colorazioni Un pochino più soft Andiamo a vedere anche con Il verde sembra di rosa Qui torneremo con un rosa Molto lamponato Bellissimo Molto buono Anche questa colorazione Non è malissimo Magari la cosa è che potrebbe essere Leggermente chiara Questa è meglio Questa è un pochino meglio Ancora meglio O comunque una variante O un appinamento cromatico funzionale È un po' questo Un esempio Bellissimo Sempre appunto Vediamo come Il fucsia di prima Risulta Un pochino troppo forte Qui invece riesco a percepirti perfettamente Vediamo che anche colorazioni Troppo chiare Quindi troppo luminose Potrebbero spiancare un po' la pelle Perché anche qui Sì sei fredda Sì sei luminosa Sì sei soft Ma capiamo la tua percentuale di softness Di luminosità E di freddezza Già abbiamo capito che i colori neutro freddi Funzionano un pochino di più E i colori non troppo luminosi Sono quelli più funzionali Proprio perché qua Stiamo andando ad aumentare troppo La luminosità Qua invece È un giusto equilibrio Questi entrambi andrebbero bene per me? Assolutamente sì Ok Andiamo a vedere il color Tiffany Quindi un bellissimo colore Secondo me non mi sta bene il Tiffany Dipende sempre dalla caratteristica di quel colore Cioè dalla brillantezza di quel colore Perché guarda come questo È troppo freddo E quindi anche leggermente troppo saturo Questo è troppo chiaro E quindi in base alla teoria Che siamo andati a vedere fino ad ora I colori quindi più grigi Quindi se io dovessi aggiungere una puntina di grigio Risulteranno un pochino appunto più funzionali Questa è la variante E ora lo programmiamo Vedi come qua è risplendi decisamente meglio Perché se noi andiamo a saturare Vedi come è troppo Sì sì E difatti Qua riesco a percepirti perfettamente Anche se non è il mio preferito Cioè su di me non è il mio preferito Non è troppo Perché ecco una cosa importante È che i colori della nostra Del nostro complesso cromatico Non tutti funzionano allo stesso modo Ed ecco perché nascono quelli che sono i jolly Cioè tra tutti i colori della mia palette Quella che mi valorizza di più Quindi esempio nel tuo caso Io ho visto come l'army green e il verde Per ora sono quelli più funzionali Ok Però già vediamo una cosa come Esempio Se non ti piace tanto come colore singolo Magari un appinamento cromatico In questo caso Non sarebbe assolutamente male Esempio Oppure un altro appinamento funzionale Potrebbe essere Prendendo il nostro verde E aggiungiamo anche Sempre come storca Sono appunto delle colorazioni Che insieme Possono funzionare Il famoso lilla In verità questo si chiama lavanda Perché prendo proprio un light lavender È un lavanda un pochino più scuro E anche un pochino più soft Vediamo sempre com'è Esatto È troppo troppo chiaro Troppo chiaro Quindi scuriamo un attimo Bello 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 questo colore Già molto meglio Ora perché come abbiamo visto Colori eccessivamente chiari Potrebbero un po' Andare a far riprendere il bianco della pelle E quindi spiancare E quindi spiancare oticamente il viso Rispetto a quello Sai che non ha niente Niente di questo colore Come si chiama lavanda È lavanda Questo è proprio lavanda Ricordiamoci sempre la provenza Lavanda Lavanda Come ultimo colore Voglio provare tre blu Uno molto chiaro Uno molto freddo E uno molto soft E qui proprio per confermare Quello che sarà il suo sottogruppo Quindi la sua appunto Stagione finale Mamma mia quante drappe che è stata E questo è tipo un quinto dei drappi che ho E immagino Allora Bello però questo colore Ok Ok Ve lo faccio un attimo così Che vi sistemo meglio Stessa cosa come abbiamo visto con i bubblegum E come abbiamo visto con Con la maggior parte dei colori Come questo Ok che è freddo Ma vi ricordiamo che Lei non è estremamente fredda Come questo è troppo chiaro E come questa è la perfezione Quindi vediamo proprio come Un blu avio Questo è una tonalità di avio E la più funzionale Perché questo che è un baby blu Risulta un pochino troppo chiaro Qui invece si bilancia tutto Un blu francese Questo è un french blu Bello Ritorna E' molto bello Ma risulta un pochino eccessivo Su di lei Invece l'utilizzo di Una colorazione più soft E non così tanto luminosa Sul suo viso Funziona molto Quindi adesso andiamo a creare Una palette funzionale Appunto con i vari trappi Che abbiamo visto Per vedere proprio una cornice A 360 gradi Sul suo volto Allora andiamo a vedere Inizia Cambio un po' il colore Cambio un po' il colore Un po' il colore Un po' il colore Cal justify Passagno con fortuna delle spalle larghe, ci sta. Ovviamente questi sono solo una piccola percentuale dei colori che ha, però appunto giusto per farci un'idea del suo compresso cromatico, quindi Chiara è una soft summer. Una cosa importante è che noi oggi ci siamo basati solo su questi tre sottogruppi, però dobbiamo pensare che l'analisi del colore è molto più ampia, ognuno di noi ha un complesso cromatico unico e di fatti Chiara è un altro tipo di metodo, che è un metodo appunto nato un pochino dopo rispetto al classico metodo che tutti noi conosciamo, potrebbe essere considerata un'estate soft profonda. Cosa significa? Che regge colori leggermente più scuri della palette soft summer, quindi niente di complicato. Vediamo, ad esempio, un ultimo confronto per far vedere un po' un prima e un dopo. Ad esempio, prendiamo un colore tanto brillante, e colori appunto un pochino più soft, quindi vediamo come i colori tanto forti risultano eccessivamente forti su Chiara, rispetto invece alle colorazioni un pochino più tenue. Quindi Chiara, appunto, vediamo che queste colorazioni qua, quindi la sua palettina cromatica un pochino più completa. Ok. Questa qui appunto è quella con i tessutini. bella, aspetta. Bello, tra l'altro su. Oh, vabbè, sì. Vediamo che comunque i suoi capelli sono abbastanza in palette, soprattutto quando se li fatti all'inizio erano ancora più in palette. Sì, non è un po' troppo ad alto contrasto? No, no, funziona bene. Ehm, spero davvero che questo video vi sia piaciuto, ci tenevamo sì anche lui a farlo in questa maniera anche un pochino rilassante, per me lui è portatissimo anche proprio a essere delicato. E ditemi che sotto nei commenti cosa ne pensate, se vi è piaciuto e se vorreste anche insomma vedere tre consulenti, consulenti in generale di questo tipo, mi hanno ammaggio che li spero. Ciao. Ciao.